Lei è la nuova Skoda Fabia e io sono finito in Polonia per provarla su strada. Che cosa curiosa? Ma ancora di più lo è lei perché è un prodotto sicuramente molto interessante perché Fabia adesso diventa l'entry level della gamma Skoda dal momento che City Go non esiste più, non viene più venduta. Una Fabia che è molto interessante perché rispetto alla generazione precedente che utilizzava ancora la piattaforma antecedente all'MQB porta in dote su questa quarta generazione la piattaforma MQB nella declinazione, nella derivazione a zero che è quella per le vetture di segmento bio, tendenzialmente tutte quelle macchine che le riconoscete perché hanno ancora il freno a mano a leva nel gruppo Volkswagen. Una piattaforma molto più evoluta che sostanzialmente fa crescere le dimensioni di Fabia perché è più lunga, è più bassa, è più larga e soprattutto è molto più generoso il passo che aumenta di ben 10 cm e tutto riesce a dare a Fabia un appeal completamente diverso un appeal di una vettura che cambia radicalmente, si avvicina a un segmento C e soprattutto riesce a offrire tantissima tecnologia e tantissimo spazio in più. Si vede innanzitutto dal frontale che è stato ereditato e viene sviluppato ancora il nuovo linguaggio stilistico di Skoda che abbiamo imparato ad apprezzare sugli ultimi modelli, qua davanti ci iniziamo ad accorgere dell'implementazione di alcune tecnologie come il radar per le funzioni di cruise control adattivo, dei gruppi ottici completamente in tecnica LED per quanto riguarda il proiettore ma anche per tutta la parte di luci diurne, qua sopra ovviamente le telecamere di sistema per quelli che sono i sistemi di assistenza alla guida e di frenata automatica di emergenza e poi alcuni elementi carini come sempre le frecce qua integrate direttamente negli specchietti e altri dettami stilistici molto particolari come ad esempio i gruppi ottici qua dietro che cambiano tantissimo vanno ad allinearsi con quelli che sono appunto i nuovi dettami di Skoda il lettering del marchio sul portellone del bagagliaio e poi ovviamente tantissime altre chicche a partire appunto dallo spazio spazio che migliora in ogni dove, guardate quanto è grande il bagagliaio ma ci arriveremo tra poco e guardate soprattutto quanto diventa generosa la parte posteriore della vettura che riesce ad accomodare in totale 5 occupanti di cui 3 sulla panca posteriore e guardate un po' quanto è generosa la bocca di accesso considerando che si tratta di una vettura di segmento B direi che non è decisamente niente male come sviluppo di questa vettura ma andiamo a vederla un attimino nel dettaglio lo stile l'avete già visto già nel video della statica andiamo a rivedere un po' alcune caratteristiche che mi piacciono molto a livello tecnologico di questa vettura che sono sicuramente una volta aperta la portiera il fatto che ci sono degli elementi stilistici molto ricercati guardate ad esempio le maniglie per aprire la portiera carino questo elemento, belle tutte queste forme geometriche della lavorazione del pannello porta elementi morbidi soltanto in alcune parti per il resto andiamo su materiali rigidi ma stiamo allineati con quella che è la concorrenza guardate ad esempio anche lo studio di design per gli elementi delle maniglie per andare ad operare la portiera e parte posteriore e parte inferiore sempre in materiale duro molto interessante invece la cura che hanno dato al design di tutta la plancia guardate l'integrazione degli elementi di design che vanno fin dentro la bocchetta di reazione e qua guardate la cura del dettaglio del movimento sembrano piccole cose ma quando una vettura viene rivoluzionata bisogna stare attenti a questi dettagli il fatto che il controllo del debio flusso vada a scorrere virtualmente sull'elemento di design è sicuramente un piccolo accorgimento tecnico che fa capire che c'è stata attenzione per i piccoli dettagli i piccoli dettagli che poi diventano macro dettagli come il quadro strumenti completamente digitale da 10,2 pollici che va a sostituire ovviamente tutti i quadranti analogici andiamo anche ad accendere la vettura che così vedete un po' quali sono le grafiche classiche Skoda con le varie tacchettine che mi vanno a segnare la temperatura del liquido di raffreddamento del motore e ovviamente la quantità di benzina presente nel serbatoio parte centrale che è dominata dallo schermo del sistema infotelematico che arriva fino a 9,2 pollici ed è in più dimensioni in teoria parte da 6,5 pollici per passare dagli 8 pollici per arrivare a 9,2 all'atto pratico in Italia questa vettura viene portata non nell'allestimento base ma partendo da un allestimento intermedio di conseguenza la base di questa vettura ha già un sistema infotelematico da 10 pollici che è comunque un sistema infotelematico di ultima generazione e che mi permette di avere tutte le funzioni connesse che questa piattaforma riesce ad avere integrata ovviamente poi con la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay ma qua ci siamo materiali nella parte superiore un attimino duri altri elementi di design che continuano per tutta la lunghezza orizzontale della plancia elementi in tessuto poi ovviamente parte inferiore di nuovo il materiale rigido e vedete insomma anche la lavorazione degli interni il tettuccio apribile che si copre con questo elemento che si va a riporre poi nel vano bagagli per andare a filtrare un po' la radiazione solare e vedete anche i sedili come sono lavorati comunque molto bene un bel design, un bello studio ergonomico ovviamente con gli agganci ISOFIX e ovviamente con le regolazioni manuali del caso vi volevo far vedere poi qua nella parte centrale sotto le bocchette del climatizzatore il pannellino di controllo che c'è qua sotto che in questo caso è un B-Zona molto comodo il fatto che ci siano i tasti fisici e c'è anche il riscaldamento dei sedili guardate qua sotto poi invece abbiamo altre soluzioni come il tappetino di ricarica wireless per i telefoni con standard QI il secondo, la seconda tip per andare a stoccare le carte che siano via card vi dicendo che come per tradizione Skoda c'è anche qua sul parabrezza e poi anche un comodo porta penne, alcune soluzioni un attimino intelligenti io ho preso una versione con il cambio DSG abbiamo il leveraggio del cambio DSG, le varie modalità di guida attivazione e disattivazione start and stop e ovviamente tutti i controlli per l'assistenza al parcheggio che è automatizzata su questa vettura e su questa piattaforma ma la vediamo più tardi leva del freno a mano che non è elettronico e poi elemento centrale che si trasforma in un vano porta oggetti con la possibilità di avere una presa a 12 volt capoldera, spazio per riporre le chiavi insomma qua c'è bene o male tutto andiamo a vedere nella parte posteriore come si vive la vettura una vettura che integra ovviamente qua ci tenevo di nuovo a farlo vedere tutte le soluzioni simplicatever di Skoda ad esempio anche nella portiera abbiamo l'ombrellino è una cosa sempre molto simpatica e che denota una certa cura di Skoda per i dettagli parte posteriore che va a essere sicuramente molto interessante la qualità sulla portiera diminuisce un pelo perché tutto il pannello è uno stampato in plastica ma secondo me ci sta mentre a bordo guardiamo che ci sono alcune cose molto interessanti allora qua è dotato di alcuni optional che si possono ordinare per la vettura che costano davvero poco come ad esempio il supporto per un telefono tablet che si aggancia al meccanismo di alzata del poggia testa del sedile sedile che qua nella parte posteriore è vestito ovviamente in tessuto mi dà la possibilità di avere il tascone dove riporre oggetti ma mi dà anche la possibilità di avere il taschino per riporre lo smartphone ed è una cosa secondo me molto simpatica ma il comfort non finisce qua magari a differenza di altri competitor di questo segmento generaliste perché? Perché chiudo che c'è vento qua dietro guardate ad esempio io ho le due, le doppie bocchette indipendenti per l'aria condizionata qua dietro quindi anche tutta la zona dietro ha ereditato diciamo una certa cura per quanto riguarda il dettaglio e soprattutto per la vita a bordo in quattro persone su quest'auto se alzo il poggia testa si sta benissimo ho tanto spazio per vivere la vettura sia per quanto riguarda lo spazio delle ginocchia sia per quanto riguarda in altezza anche se c'è il tettuccio panoramico quindi qua dietro alla macchina si vive veramente bene tra l'altro vedete che anche gli elementi sono comunque molto curati nelle logiche, nella cura costruttiva le luci a led qua sopra la possibilità di andare ad agganciare vestiti e quant'altro e vi dicevo doppia bocchetta del clima che non è una cosa scontata su una vettura di questo segmento e doppia presa USB di tipo C anche qua dietro ovviamente la doppia presa USB di tipo C c'è anche qua davanti mi sono dimenticato di farvela vedere ma c'è anche qua dietro con tutto il cassettino centrale adesso non ve lo stacco se magari ve lo stacco con una mano non ci riesco che può essere rimosso o aggiunto per andare a dare uno spazio aggiuntivo dove riporre oggetti o riporre bevande mi sono dimenticato di farvi vedere il volante ma ve lo faccio vedere in questo momento volante che va a riprendere quello inaugurato con la nuova Octavia con due razze basta quindi con la parte inferiore che diventa flottante e con questi comandi di nuovo flottanti molto particolari comunque dal buon disegno stilistico secondo me ci sta molto come impostazione generale della vettura e della plancia che state vedendo proprio in questo momento vi volevo far vedere poi il bagagliaio bagagliaio che come avete visto nella statica aumenta di volumetria è una volumetria che diventa molto interessante anche qua non mancano le soluzioni simple e clever abbiamo le reti qua sotto per andare a riporre non solo oggetti ma ad esempio tutta la copertura che vi ho fatto vedere per il tetto panoramico che si stacca si piega e si ripone qua sotto per non andare a mangiare spazio la capellina si può ovviamente rimuovere si può gestire come meglio si crede adesso riagganciamola abbiamo un sacco di ganci per andare a fissare oggetti borse della spesa sono soluzioni che non sono così stupide e fanno veramente comodo nella vita di tutti i giorni come ad esempio anche la possibilità di andare a togliere in questo caso il fondo del vano bagagli e di avere a disposizione non so se questa vettura ne è dotata siena è dotata grandi di avere a disposizione questa stuoia che si va ad applicare qua nella parte nella parte posteriore e permette di caricare oggetti magari pesanti nel bagagliaio senza andare a danneggiare la carrozzeria sono piccole accortezze perché credetemi a una casa automobilistica costa veramente poco produrre questa cosa ma che essendo integrate anzi con Skoda che va a integrarle a bordo di un'auto riesce veramente a fare la differenza per quanto riguarda la vita di tutti i giorni perché magari la differenza tra il caricare su dei vasi molto pesanti sulla vettura magari andando a danneggiare la carrozzeria cosa che invece qua non accade molto interessante poi anche il fatto che ci sono vari scompartimenti frazionamenti del bagagliaio che permettono di andare a stoccare oggetti e fissarli come ad esempio questo ovviamente con una mano è sempre è sempre difficile andare a fare questo mestiere però vedete anche questa paratia mobile di cui io regolo l'apertura e vado a bloccarla per andare a fissare di nuovo oggetti borse della spesa vasi tutte le restano farle ballare insomma sono delle soluzioni secondo me simpatiche che vanno sicuramente a rendere onore a quello che il DNA di Skoda per quanto riguarda le soluzioni Simpli Clever a bordo delle vetture insomma l'abbiamo vista un attimino più nel dettaglio dal punto di vista estetico e funzionale adesso alla bene meglio rimetto tutto dentro chiudo il portellone del vano bagagli e direi di mettermi alla guida ma non prima di avervi dato l'ultima informazione a livello di motorizzazioni livello di motorizzazioni che per strategia del gruppo Volkswagen su questa piattaforma quindi la piattaforma MQB A0 non vedranno elettrificazioni ma rimarranno delle motorizzazioni puramente endotermiche ora l'offerta di motorizzazioni endotermiche per l'Italia non mi interessa quello del mercato europeo prevede che arriveranno i motori MPE aspirati potenze 65 o 80 cavalli adatte con una base di listino intanto vi dicono che il prezzo della vettura così dopo tiriamo delle conclusioni rapide con una base di listino di 16.900 euro quasi 17 però attenzione è un prezzo di listino ovvio che si porterà a casa un po' di meno e soprattutto attenzione perché non c'è la versione base della vettura ma vi portate a casa è una macchina molto accessoriata in Italia motorizzazioni aspirate motorizzazioni turbo che secondo me sono le più interessanti con il 1000 tre cilindri che può essere abbinato anche al cambio automatico come in questo caso io ho una motorizzazione 1000 tre cilindri con potenze da 95 o 110 cavalli tra l'altro la motorizzazione scusate motorizzazione 1000 da 95 o 110 cavalli motorizzazione 1000 tre cilindri classico che conoscete del gruppo Volkswagen è un motore molto interessante dal punto di vista tecnologico perché è l'ultima generazione di propulsori compatti tre cilindri costruiti con testa e basamento in lega leggera che permettono di avere ottime prestazioni e soprattutto consumi molto ridotti e ingombri decisamente ridotti nel vano motore sono dei propulsori che riescono a sviluppare comunque una buona dosi di coppia e bassi giri e permettono di essere abbinati poi soprattutto all'ottimo cambio DSG a sette rapporti di sottofrizione che vedete lì sotto io vi consiglio se avete un po' di budget in più di sfruttare soprattutto sulle motorizzazioni turbo perché fanno muovere veramente bene una vettura e danno la possibilità di accedere a tutte quelle tecnologie di guida assistita di livello 2 che rendono questa vettura di segmento B in realtà una vettura molto completa molto più vicina a un segmento C detto questo direi che può anche bastare mettiamoci al volante vediamo un po' come si comporta su strada e a bordo di squadra Fabio mi sono ritrovato alla guida di una vettura che è cambiata radicalmente rispetto alla generazione passata ed è cambiata radicalmente rispetto alla generazione passata perché credetemi ci troviamo a bordo di una vettura completamente diversa una vettura che è nuova non c'entra più niente rispetto alla precedente e soprattutto che è molto vicina a un'auto top di gamma perché abbiamo una suite tecnologiche di assistenza alla guida e di tecnologia alla guida che è la stessa dei segmenti superiori ad esempio vado a ingaggiare il cruise control adattivo con funzione stop and go e il mantenimento della corsia come vedete in questo momento l'auto al controllo del centraggio della corsia ed è una guida assistita di livello 2 che è la stessa che troviamo su segmenti superiori del gruppo Volkswagen e si comporta tanto bene in quei segmenti tanto bene su questa vettura quindi quando si cambia piattaforma non è che cambia il telaio quindi è più rigido il telaio la macchina si guida solo meglio cambiando quello che voi intendete il telaio cambia la piattaforma e la piattaforma è quello che dà la possibilità a una vettura di integrare questa tecnologia quindi la frenata automatica di emergenza il cruise control adattivo il mantenimento della corsia il sistema infotinomatico in ultima generazione la possibilità di avere sensoristiche in più la possibilità di avere un sacco di cose perché deriva tutto dalla predisposizione della piattaforma ad avere tale tecnologie cambiando piattaforma la macchina è completamente diversa cambia radicalmente ve l'ho detto non c'è soltanto ovviamente l'assistenza alla guida di livello 2 che è ottima credetemi difficilmente si trovano assistenze alla guida di livello 2 tanto buone quanto al pari di quella che può finire il gruppo Volkswagen al momento poi c'è il blind spot monitor la frenata automatica di emergenza con lo conoscimento dei pedoni c'è la possibilità della vettura di avere un'ottima consapevolezza di se stessa all'interno dello spazio e questo rende Fabia una macchina che da segmento di proprio apripista aprigamma di Skoda diventa un'auto a sé completissima non diventa una storia non c'è qualcosa ma io ho il meglio di tutta la tecnologia del gruppo nelle dimensioni più compatte possibili abbiamo questo abbiamo poi il sistema ecotelematico di ultima generazione la possibilità di controllare la dinamica di guida con i vari profili che sapete vanno a tarare poi le letture le tarature le mappature e via dicendo e poi arriva il dolce hanno fatto un ottimo lavoro perché è una macchina che si guida molto meglio sembra molto più leggera molto più reattiva il carico dei comandi e la taratura generale ovviamente quella di una vettura comfort assorbe benissimo tutte le regole rete dell'asfalto e ha un ottimo comportamento dinamico perché riesce a garantire un'ottima sicurezza alla guida con un'ottima tenuta anche in condizioni limite che questa è la chiave di lettura della vettura parlando di motori come vi ho anticipato fuori in Italia arriveranno solo i 1000 gli MP aspirati 65-80 cavalli e il 1000 3 cilindri 95 o 110 meno male perché il 150 cavalli 4 cilindri turbo diventava un motore sportivo fin troppo sportivo per questa macchina e usciva fuori da quello che era il focus della vettura mentre trovo il motore ovviamente più a fuoco assolutamente il 1000 3 cilindri che è un motore molto sofisticato molto persimonioso riesce a viaggiare con una media chilometrica di 5 litri ogni 100 km è un motore che consuma poco e soprattutto riesce ad avere un livello tecnologico tale da portarsi dietro con la vettura con il minimo sforzo e soprattutto è anche interessante dal punto di vista dei consumi perché tra l'altro lavora con un ciclo Miller quindi un attimino più intelligente assolutamente da denotare la possibilità di avere il cambio automatico e se dovete investire qualche spicciolo in più fatelo per il cambio automatico perché su una vettura come questa nuova squadra Fabia che vi ripeto è una vettura completamente diversa a tutte queste tecnologie di assistenza alla guida avere il cambio automatico significa migliorare da così a così quella che è la fruizione dell'auto in tutti i contesti di utilizzo cambia l'auto radicalmente quindi se prendete il 1000 tre cilindri turbo prendete assolutamente il cambio automatico se invece volete prendere una motorizzazione MP quindi o 65-80 cavalli perché è una motorizzazione più trasversale che può essere guidata anche da neopatentati lì per forza vi dovete accontentare del cambio manuale ma magari su quella motorizzazione evitate magari di acquistare l'assistenza alla guida di livello 2 perché fruire di questo grado di tecnologia senza un cambio automatico si funziona ma non ha molto non ha molto senso per il resto ho trovato ottima la risposta dello stance molto magena molto fluida tutti i comandi sono semplicissimi ed è questa un'altra cosa molto interessante della vettura su quest'auto ci si può sedere chiunque più o meno esperienza e riuscirà a trovarsi immediatamente perché la vettura è di facile comprensione di facile utilizzo e soprattutto è molto facile da capire da capire ad esempio a livello di spazi perché linea di scintura bassa ha un'ottima superficie vetrata vedo benissimo capisco benissimo quali sono gli ingombri della vettura è tutto molto intuitivo istintivo quindi mi piace molto è inutile che vi dica che il sistema ilfo telematico funziona benissimo poi tra l'altro è anche connesso aggiornato via via aria over the air via OTA e ha ovviamente la predisposizione per Apple CarPlay Android Auto tutta la tecnologia che già conosciamo ha sicurezza molto interessante con nove airbag e ovviamente poi tutta la sicurezza è stata attiva dettata dal non solo il cruscotto relativo ma anche frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni e frenata automatica di emergenza in varie condizioni quindi è una vettura che è anche molto sicura e mi è piaciuta molto proprio per il fatto che è una vettura che ha la stessa tecnologia di un'auto di segmento superiore cambia solo la forma ma questa è un'auto assolutamente da tutti i giorni non è una rinuncia non è la seconda auto non è da considerare come seconda auto di famiglia ma questa può benissimo essere la prima e unica auto di famiglia perché comunque quattro persone si sta benissime cinque si sta stretti ma ha assolutamente tutto tutto il meglio di quello che il gruppo Volkswagen può offrire in termini di tecnologia quindi per questo mi è piaciuto molto poi ve l'ho detto è una vettura furba ha queste soluzioni molto furbe è anche carina esteticamente si guida bene è piacevole direi che le carte in regola ci sono tutte ma detto questo vi direi di scendere di tirare due conclusioni insomma una Skoda Fabia che alla guida ovviamente si comporta molto bene ma del resto conosciamo la base tecnica di questa vettura e sappiamo bene che funziona molto molto bene il listino ve l'ho detto poco meno di 17.000 euro quindi 16.900 ci sta per quanto è completa soprattutto per come arrivare in Italia ed è una vettura che secondo me va a rendere i segmenti B del gruppo Volkswagen decisamente molto più interessanti con un sacco di concorrenza interna molto molto furba fatemi sapere che cosa ne pensate uno delle soluzioni Simpli Clever di Skoda anche a bordo di questa nuova Fabia e due se vi piace anche a livello stilistico fatemelo sapere ovviamente nei commenti noi ci vediamo al prossimo video sempre su Automoto ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti.